Ciao, ciao, grazie a tutti per essere venuti a Chris Maasco Se i Maia hanno ragione è l'ultima volta che si è Miryà non voglio stai con te, non voglio stai con te Sì, non voglio stai con te 1,2,3,4 Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.